diciamo che le aperture le ho verso sud un pochettino e verso est due sbocchi letteralmente per il diciamo verso il Brasile e verso l'Indonesia e tutto lì riesco a lavorare un pochettino un po' di qua un po' di là ma letteralmente molto molto poco. Vi ringrazio, vi ringrazio del coesio specialmente ecco se c'è ancora magari Roberto ringraziano Italia Kilo 1 per novembre radio ecco per il coesio e te Fabio in apri, veramente stupendo il coesio, spero di ritrovarti in frequenza per fare quattro idratte in compagnia ecco. Roger, ascolterò i finali e dopodiché chiuderò il quarto Italia San Bonove, Sardico Bravo in Ronadio in Sicilia per te e poi passerai a Italia 1 Luigi in Raffaello ecco. Per te nuovamente allora a Italia San Bonove, Sardico Bravo a Poguato Italia 9, 2-3 in gruppo. Benissimo Fernando, benissimo il M3 Empoli Mike XRain 9, Charlie, il conto Bravo riprendendosi auguro la buona tirata carissimo Fernando è il piacere di riascoltarci nuovamente. Buon tutto quello che fai, buon fine settimana, buon tutto quello che fai carissimo Fernando. Io saluto pure il carissimo Luigi, che però non ho copiato bene l'indicativo Luigi di Demetri Cambio, mi escoltarai, qui è il nome Sardico Bravo, Rosario in Adrano, l'espedizione dell'estero a 30 km in circa da Catania, prego Luigi. Roger, Roger, 59 Sardico Bravo, BN3 Eco Max Sinopolo, di K6 Bravo Radio Giappone, Italia 1 Sierra Eco November, E1 S e N, Santiago Europa Nicaragua, purtroppo che sono vecchio. Vi passo brevemente i controlli, arrivate tutti bene, l'amico M3 Eco Mike Sinopolo, Fernando in Trento, 5-9-6-10, Lo stesso per Rosario in Sicilia, Adrano, 5-9-6-10, l'amico Fabio, il...